Questo nuovo ponte misura 285 metri e questo costituisce un'altra ricorda mondiale. Questo ponte è stato un progetto dall'ingegneria in realtà fossile. E noi, quando andiamo a portare sulla destra, vediamo qua davanti, sulla destra, la sua in alto, un pezzo della cinta di mura. Come detto, Oporto era una città tutta fortificata. E ci sono ancora dei resti della cinta di mura. Se invece guardiamo a sinistra, sempre davanti a noi, la sua in alto, a sinistra, abbiamo la costruzione con il ponte Oporto, e il monastero di terra di Milano, che è stato fondato dall'ordine del posto di San Agostino. Era un monastero agostiniano. Nel 1834 è stato occupato dalle struppe liberali, perché ha una posizione strategica, e è stato allora trasformato in casella.